Beretta Galleri Milano, il tempio dell'arte armiera italiana ed internazionale. Ci troviamo nella parte dell'armeria dove esponiamo i fucili fini. Tra i fucili fini, dietro di me degli S.O. è questa pregevole coppia di Piariale Montecarlo. La storia delle doppiette Franchi ha inizio negli anni 30 con la doppietta Littorio, nettamente ispirata ai fucili del Berga François Tirife, che all'Ieggi costruì doppiette fini dal 1925 al 1935. Alla Littorio seguirono la Principe, a cani esterni, e la serie imperiale. La bascula delle doppiette Imperiale Montecarlo aveva piani slanciati, seni di bascula sporgenti e piasse delle batterie che presentavano già una linea sfuggente verso il basso. I primi aggiornamenti della linea si hanno con l'immediato dopoguerra, con la bascula che si accorcia leggermente e si allarga, le batterie più affilati posteriormente e i seni più arrotondati, caratteristiche presenti ancora oggi. Le incisioni che all'inizio erano all'inglesina o a doppio ricciolo, specialmente per l'opera del maestro incisore Gino Medici, si fanno più ariose, secondo il gusto italiano. Le canne dell'Imperiale Montecarlo sono assemblate a demi-block, il che vuol dire che ogni sbozzo da cui sarà ricavata una canna reca a metà dei tenumi. In origine la lunghezza variava dai 66 ai 74 cm. Trattandosi di fucili costruiti su ordinazione, ancora oggi è possibile scegliere la lunghezza delle canne. Le batterie sono di tipo Holland e Holland, con doppia stanchetta di sicurezza. La chiusura è una triplice Parday con traversino che esce dalla bascula, comandato dalla chiave e si appoggia ad una mensola ricavata nel blocco canne. Tra le caratteristiche originali tipiche di queste doppiette troviamo l'estrazione automatica dei bossoli e i grani portapercussori sulla faccia di bascula. Tra le versioni più ricche la Imperiale Montecarlo Extra aveva incisioni firmate, proprio come nei due esemplari di questa immagine. Anche se balisticamente inferiore al suo rapposto, la doppietta ha una maneggevolezza superiore, con una maggior facilità di tiro di stoccata, per via del largo piano di riferimento costituito dalle due canne affiancate. Oggi come allora, la doppietta Imperiale Montecarlo realizzata da Beretta resta un riferimento assoluto nel mondo di questo tradizionale genere di fucili da caccia, come mostrano queste immagini riprese in Beretta Gallery a Milano. Beretta Gallery è un luogo d'incontro. 5 novembre, ore 18, vi aspettiamo in via Durini al 5 per l'evento di presentazione del nuovo 690 Film 3. Anche se per l'evento di presentazione del nuovo 690 Film 3. Grazie.